Nel Vangelo di oggi, preso da Luca al capitolo primo, dal versetto 26 e seguenti, leggiamo Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Vorrei che la nostra attenzione si fermasse su una parola detta dall'Angelo Gabriele a Maria, Rallegrati, piena di grazia, cioè sii nella gioia, gioisci, l'Angelo invita Maria ad essere nella gioia per l'arrivo del suo Salvatore. È una storia meravigliosa, Maria di Nazareth viene raggiunta perché Dio vuole arrivare a noi, come ci arriva ogni uomo, vuole trovare rifugio e accoglienza in un grebo materno. Dopo un iniziale e comprensibile smarrimento, come nota il Vangelo, ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. Maria, rassicurata dall'Angelo, riceve le indicazioni, ecco concepirai un figlio, lo darei alla luce e lo chiamerai Gesù. Lei era stata promessa sposa a Giuseppe, fa notare che ancora non andava a vivere insieme con lui, come è possibile, non conosco uomo. Allora l'Angelo le indica il percorso di Dio in suo favore, lo Spirito Santo scenderà su di te e su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque Santo e chiamato figlio dell'Altissimo. Maria dice sì a Dio, diventa il grebo di Dio perché a Dio nulla è impossibile. Ecco l'insegnamento per noi e la certezza che anche ognuno di noi deve in qualche modo essere grebo di Dio, accoglierlo con la fede nella nostra vita, nella nostra storia, avere fiducia in Lui, abbandonarci a Lui. Chi accoglie Dio è nella gioia. In questo tempo di preparazione al Natale, nello sfrenato consumismo, molti cercano la felicità nelle cose, ma non trovano la gioia, trovano brandelli di felicità che danno facili illusioni e poi grandi delusioni. La gioia non viene dalle cose, è spirituale, viene dalla consapevolezza di sentirsi amati da Dio a tal punto che egli si fa uomo. Questi giorni di preparazione al Natale, invece di dissiparli nelle distrazioni e nelle banalità, impieghiamoli nel ritrovare la gioia che nasce da un cuore sereno, aperto, ad accogliere Dio e questo genererà l'impegno a lasciare cadere una goccia di gioia, di amore, una parola di luce, un atto di bontà. Ci accorgeremo di dare origine a un fiume di gioia e di bene che inonda e feconda il vivere quotidiano. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.